1.500 atleti provenienti da 10 diverse nazioni daranno vita alla 69esima edizione dei Casta, campionati sciistici delle truppe alpine. Fino a venerdì, attraverso una leale confronto agonistico, i militari vivranno una settimana di eventi sportivi, montagna, palestra di vita che li ha visti protagonisti durante i delicati interventi messi in atto nel centro Italia per portare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto e dall'eccezionale ondata di maltempo. Il centro Italia è stato un ottimo momento per dimostrare supporto a queste popolazioni che hanno molto sofferto, a cui va il nostro altruismo, la nostra vicinanza e veramente è stato un grande privilegio poter fare qualcosa per alleviare le loro sofferenze. Però è stato anche un momento di sforzo sistemico, di sforzo interforzo con i vari ministeri e di coesione tra le varie forze armate, proiettando capacità che sono di ricostruzione, di soccorso, di salvataggio, di intervento, capacità che sono proprie e uniche delle forze armate. Sono molto orgoglioso delle nostre donne, dei nostri uomini e c'è stato un commento che è stato fatto da alti vertici americani e è stato sull'etica dei nostri militari. Sicuramente dal punto di vista dell'equipaggiamento e delle capacità sono tra i migliori, ma dal punto di vista dell'etica, della morale, della capacità di interpretare le missioni di sicurezza con altruismo, con coraggio, impugnando e usando l'arma quando necessario, ma sempre al servizio della gente, è una visione unica che ha veramente posto le nostre forze armate, i nostri militari fra i primi del mondo. I casta in forma sportiva diventano quindi il momento di verifica del livello di addestramento raggiunto. 1.500 uomini e donne che si sono addestrati a lungo in questo inverno, che talvolta non è stato inverno, ma comunque andando in montagna alla neve si trova, che si sono impegnati, hanno fatto un grande addestramento e adesso siamo alla prova del 10 per dimostrare quello che sono capaci di fare. Ad accompagnare il capitano della nazionale parolimpica di Ice Hockey, Gianluca Cavaliere, nell'accensione del tripode posto in piazza del magistrato San Candido, è stata Karin Oberhofen, fortissima atleta di biathlon del centro sportivo esercito, per qualche tempo lontana dalle gare, essendo in dolce attesa. Mi mancano tante le gare, ma questo è un momento per me un po' diverso, lo affronto giorno per giorno, oggi ho già sciato e adesso posso fare qua questa cerimonia e anche questi sono momenti bellissimi. Giorno per giorno è una nuova sfida, è una nuova avventura, vorrei tornare a gareggiare, spero che tutto andrà liscio, ci vuole tanta fortuna, lo so, ma ci proverò. È una buona occasione anche per far conoscere il nostro sport, è una bella manifestazione questa e speriamo che tanto pubblico che ci sia qua venga poi a vedere la nostra partita. Gli atleti che si confronteranno nelle diverse discipline e competizioni vedranno la presenza anche di alcuni rappresentanti dell'ANA. Ormai da qualche anno non solo siamo presenti per dare un supporto come associazione, ma siamo presenti anche concretamente in quasi tutte le gare. Speriamo anche fra qualche anno di esserci con i plotoni perché noi siamo convinti che i nostri alpini in congedo sono ancora capaci di mostrare le loro grandi capacità.